Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì stabile ed assolato sulla Liguria, al più solo qualche velatura in transito. Vediamo ora nel dettaglio la provincia d'Imperia, cieli sereni o poco nuvolosi e con temperature massime stazionarie e clima estivo, con picchi anche di 25-26 gradi. Sulla provincia di Savona, situazione pressoché analoga, con ampi spazi soleggiati e clima ancora estivo, l'autunno infatti si farà ancora attendere, punte massime intorno ai 25 gradi. Sulla provincia di Genova, ampi spazi soleggiati, al più solo qualche velatura in transito senza conseguenze e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Sul Tiguglio, situazione pressoché analoga, con sole protagonista, sempre qualche velatura in transito, la ventilazione debole, con Marligure calmo o poco mosso. Sullo spezzino, situazione fotocopia, con ampi spazi soleggiati, al più solo qualche velatura in transito. Ci attende un mercoledì con condizioni di variabilità sulla Liguria per il transito di una perturbazione, ma non porterà grandi conseguenze, cieli al più nuvolosi e temperature massime che saranno in lieve calo. Ulteriori dettagli ed approfondimenti vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo. Grazie a tutti.